Il difensore tedesco ha firmato con la Roma. E' l'ultimo acquisto di un mercato infinito da parte dei giallorossi. E' arrivato all'ufficialità di Macumels. Il difensore, dopo essere sbarcato a Fiumicino in mattinata e aver svolto le consuete visite mediche, ha firmato il contratto che lo lega alla Roma. Proprio in questi istanti è arrivato l'annuncio da parte del club capitolo. Il tedesco è ufficialmente un giocatore giallorosso.Humels, protagonista la scorsa stagione con il Borussia Dortmund, ha scelto di indossare la maglia numero 15, è il settimo calciatore tedesco della storia giallorossa.